Il caffè era freddo, troppo dolce. A me non piace la gente. L'unica cosa che riuscivo a percepire era questo senso vago di infelicità, senza desideri. Poi ci sono quelli che non hanno la patente e si sfogano con i pattini, accorgendosi di quanto è facile rischiare la vita. Ma la vera prova, che dimostra senza alcun dubbio che io non sono figlia dei miei attuali genitori, è la macchia mongole. Per due anni ho vissuto ogni minuto del mio tempo libero immerso in un girono infernale che neanche Dante sarebbe riuscito ad immaginare. Gli uomini poi mi hanno sempre evitato, sebbene io sia una bella donna. Ma io sono fatta così. Accumulo e poi esplodo. Gli uomini poi mi hanno sempre evitato. Grazie. 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 Grazie.